C'è il dovere della memoria? E si resta sempre col dubbio che fra le cose che dimentichiamo, magari perché preferiamo non ricordare, e anche questo è un mistero del nostro rapporto con la storia, dell'uso civico della storia. Che cos'è che dobbiamo ricordare? Che cos'è che è meglio dimenticare? Che cos'è che dobbiamo vedere di continuo per non dimenticare? E cos'è che è meglio non vedere? Perché preferiamo stenderci sopra un velo di silenzio. Abul Abbas, in fondo un povero quadrupede, è vissuto più o meno bene forse, a parte quei due anni in cui l'hanno sballottato per il Mediterraneo, ma è vissuto 12 secoli circa e non ha lasciato grandi urme di sé. Però capita di doverlo ricordare perché è associato al ricordo di due grandissimi personaggi, due personaggi straordinari, l'uno dei quali è stato veramente uno dei più grandi monarchi dell'universo, alludo ad Arun al Rashid. E alludo ad Arun al Rashid perché bisogna sempre tenere presente che l'Occidente, il nostro Occidente, l'Occidente europeo, fino al XVI secolo circa, è stata un'appendice periferica di una grande civiltà eurasiafica, distinta in vari stati, in vari paesi, in vari popoli, in vari linguaggi, che era veramente il centro del mondo. Ed è un centro del mondo che, diciamo, cominciava a Costantinopoli e finiva a Pechino. O viceversa, se preferite, un po' di attualità in più, cominciava a Pechino e finiva a Costantinopoli. Il resto era una lontana periferia. Naturalmente, da quando noi nel XVI secolo siamo diventati padroni del mondo, abbiamo scompigliato le carte e abbiamo rovesciato i rapporti, evidentemente al nostro vantaggio. Io mi amo sempre quando ho un uditorio di studenti abbastanza giovani, abbastanza giovani da ritenerli freschi di cose liceali e quindi in grado di cascare in trappole grossolane, però ci sono cascati anche molti adulti, faccio il gioco di Theodosio, che è questo. L'imperatore Theodosio nel 395 muore e morendo lascia l'impero, che ormai si usava, e si usava fin dai tempi di Marcantonio e d'Augusto, dividere, quindi da prima ancora che fosse stato proclamato, dividere in una pars orientis e una pars occidentis, per motivi legati a necessità amministrative, alla velocità delle notizie che circolavano al tempo, eccetera. Il giochetto è questo, Theodosio, e questa è storia obiettivamente intesa ed esposta, Theodosio morendo lascia in eredità, anche se l'impero romano non era ereditario istituzionalmente, ma lo diventava quando l'imperatore in carica era abbastanza potente da poter imporre la sua volontà, Theodosio poteva farlo, lascia l'impero in eredità ai suoi due figli, Onorio a Occidente, Arcadio ad Oriente. La domanda è, ragazzi, allora, chi era? Naturalmente, quando l'eredità non è divisa in parti uguali, si pensa che il padre avesse un figlio preferito, a cui lascia la parte più cospicua dell'eredità. E allora si chiede, ragazzi, chi era, secondo voi, l'erede favorito? Onorio, che ha avuto l'Occidente, o Arcadio, che ha avuto l'Oriente? E tutti rispondano in coro, Onorio, perché ha avuto l'Occidente. Cioè un mondo semidesolato, impoverito, colpito da tutta una serie di problemi che andavano dalle invasioni, che non erano ancora invasioni barbariche, ma che erano migrazioni di popoli che poi si sarebbero più o meno trasformate e con un grosso salto di qualità. Quindi, prima di fare analogie col presente, pensateci un attimo, più tardi si sarebbero trasformate in invasioni barbariche, ma secoli più tardi. L'Oriente, invece, era il Mediterraneo orientale, erano i grandi porti di Costantinopoli stessa, di Alessandria d'Egitto, di Antiochia. Era il luogo della cultura greca e della cultura greca che si era confusa e mischiata con tutte quelle orientali. Il luogo della cultura ellenistica, che è una delle basi straordinarie e anche della nostra cultura attuale. Quindi il rovesciamento è importante. Noi siamo abituati a questo rovesciamento, al punto che lo riteniamo naturale. Non è così. Carlo Magno era il signore di un impero che non si capiva nemmeno bene che cosa in realtà fosse. Non era la resurrezione dell'impero d'Occidente. Tanto perché non tutte le terre del vecchio impero d'Occidente erano tornate sotto lo scettro di Carlo. Poi perché in realtà Carlo era principalmente il re di una popolazione germanica più o meno fortemente romanizzata o più o meno debolmente romanizzata e che però presiedeva una federazione di altre popolazioni simili tra cui c'erano i Longobardi in Italia, ma c'erano anche dei Visigoti nel sud della Francia, eccetera. Carlo Magno era imperatore per una strana volontà di un pontefice che in quel momento aveva bisogno di restaurare un'autorità sovrana di tipo temporale, laico come diremmo noi. Era un laico fino a un certo punto perché i re dell'antichità e anche della modernità fino al secolo XVIII qualche brandello di questo è rimasto ancora in qualche re attuale principalmente soltanto la regina Inghilterra e l'imperatore del Giappone ma un imperatore, un sovrano del mondo medievale era per certi versi considerato dalla gente non attorto quasi un sacerdote. Pensate che l'unzione sacra cioè una cerimonia d'origine biblica che si era restaurata nell'impero cristiano l'unzione sacra fino al XIII secolo veniva fatta ai sovrani con il crisma vescovile con il crisma con cui si ungono i vescovi soltanto nel XIII secolo per segnare una distanza tra la dignità sacerdotale e quella regale e sottolineare che quella regale non era propriamente una funzione sacra anche se in un certo senso continuava indirettamente ad esserlo Papa Innocenzo III quindi siamo fra il 1198 e il 1215 privò i sovrani del loro tempo dell'uso del crisma episcopale per le cerimonie di incoronazione e lo sostituì con il normale olio dei catecumeni che è quello con cui si battezza con cui si dà l'estremunzione eccetera eccetera ma è naturalmente molto inferiore per dignità e per sacralità al crisma episcopale questo appartiene al processo di secolarizzazione della cultura occidentale a questo lungo processo che poi visto dal nostro punto di vista di moderni ha portato l'autorità civile a liberarsi dalla gabbia sacrale in cui in qualche modo l'aveva confinata la civiltà cristiana medievale e protomoderna le cose ovviamente come sempre non stanno proprio così ma possiamo pensare di esserci avvicinati abbastanza quindi nel mondo dell'ottavo, nono secolo quando interagiscono per una serie di fenomeni di quelli che nella storia ogni tanto accadono coincidenze interagiscono nel mondo tra il Mediterraneo, l'Europa e il Vicino Oriente tre personaggi straordinari il terzo di questo personaggio che per la verità è una terza di sesso e suppongo anche di genere femminile l'imperatrice, la basilissa Irene l'imperatrice di, noi diciamo, di Bisanzio di Costantinopoli più propriamente si dovrebbe parlare dell'imperatrice dell'impero romano d'Oriente che è tale, che resta tale senza soluzioni di continuità poi ci sarà un incidente nel 1204 quello della quarta crociata che in qualche modo interromperà una serie imperiale che risale ai primi imperatori risale a Cesare ed Augusto senza soluzione di continuità in Oriente in Occidente questa soluzione di continuità c'è stata noi diciamo impropriamente nel 476 cade l'impero romano un grande studioso del mondo romano che era il momigliano ricordava che si era trattato di una caduta senza rumore in fondo il magister militum quindi il comandante degli eserciti imperiali e se si vuole ministro della guerra dell'ultimo imperatore romano d'Occidente Romulo Augusto che noi chiamiamolo Augustolo il piccolo Augusto l'Agostino, l'Agustarello come direbbero i romani questo ragazzo salito sul trono per vicissitudini che non ricorderemo stamani perché altrimenti perdiamo tutto il tempo viene dimesso dal trono viene dispensato se ne va in una villa romana con tutti i comforts dove consumerà la sua esistenza in maniera agiata ma anonima e il magister militum modo acre spedisce le insegne imperiali a Costantinopoli dicendo all'imperatore d'Oriente Zenone basta un imperatore per tutto l'impero è un vecchio sogno degli imperatori d'Oriente ristabilire l'unità imperiale ci riuscirà per pochi decenni l'imperatore giustiniano nel VI secolo quindi qualche secolo prima che nascesse un altro dei protagonisti di stamattina un protagonista che resta un po' in disparte ma non va dimenticato prima che alla Mecca nel 570 nascesse il profeta Muhammad pochi anni prima si era avuta questa avventura di giustiniano che aveva riconquistato tutto il bacino mediterraneo aveva ristabilito l'unità dell'impero a spese sue a spese della sua sicurezza spendendo troppo mettendosi troppo nelle mani dei militari allontanandosi dalla sua capitale e se non ci fosse stata quella signora molto chiacchierata peraltro che lui aveva sposato l'imperatrice Teodora giustiniano questa avventura verso l'occidente che l'aveva portato a battere Longobardi e a riconquistare l'Italia e poi ancora di nuovo scusate non i Longobardi volevo dire i Goti e poi di nuovo l'aveva portato fino alla Spagna questa avventura l'avrebbe pagata cara probabilmente col trono e anche con la vita e infatti non resse a lungo quest'unione e l'occidente ripiombò in mano alle tribù barbariche in mano alla sua decadenza finché pian piano emerge da questo caos che in fondo abbiamo studiato tutti sui banchi di scuola anche se ne ricordiamo solo qualche tratto emergono i franchi i franchi organizzano sottomettono anche alcune altre popolazioni tra Francia Germania Spagna del Nord Germania occidentale naturalmente Spagna del Nord volevo dire penisola iberica del Nord naturalmente e Italia settentrionale riescono a organizzare una compagine che per brevità noi chiamiamo l'impero carolingio questo impero esce non tanto dalla volontà di Carlo anzi il re Franco Carlo che era arrivato in pellegrinaggio a Roma nell'Ottocento quando nella notte di Natale dove lui era andato nella Basilica di San Pietro per prendere devotamente la comunione e assistere alla messa natalizia si vede incoronato imperatore con una cerimonia improvvisata secondo certe fonti si sente quasi contrariato è una delle pagine più oscure e più tormentate dagli studiosi questa è l'incoronazione di Carlo Magno qualcuno dice sì in realtà era una combina già stabilita qualcun altro dice il Papa ha bisogno di un braccio secolare di un re che gli ubbidisca in tutto e nello stesso tempo lo liberi da certe incombenze terrene d'altra parte questo Papa era molto insicuro sul suo soglio era stato circondato da tutta una serie di nemici era stato addirittura messo sotto processo sotto inchiesta da alcuni avversari quindi aveva bisogno di un potente alleato però questo potente alleato lo nomina imperatore anzi divina favente maiestate romanorum imperium governance reggente o governatore dell'impero romano che non c'è più è una formula strana è una formula ibrida infatti l'impero carolingio vivrà di una vita piuttosto stentata dall'ottocento fino a verso per un secolo e mezzo in mezzo a guerre civili eccetera finché un secolo e mezzo più tardi un altro sovrano anche egli germanico ma non appartenente alla gente franca ma alla gente che Carlo Magno aveva cristianizzato e anche duramente oppresso ai Sassoni quindi un popolo germanico insediato a oriente dei franchi insediato più propriamente in quella che noi chiamiamo la Germania mentre i franchi sono un po' a cavallo tra la Germania e la Francia che dà loro il nome questo nuovo imperatore Ottone duca quindi governatore e comandante di una di un gruppo etnicamente compatto il termine romano dux lo si usa nei linguaggi volgari per indicare un capo che è il capo di un gruppo etnico ben definito ben definibile non solo di una certa estensione di territorio ma anche di un gruppo etnico preciso che sono i Sassoni con i Sassoni poi comincia l'avventura di quello che soltanto quattro secoli più tardi dalla bolla d'oro del 1356 edita dall'imperatore Carlo IV della dinastia di Lussemburgo Bohemia soltanto da allora si definirà sacro romano impero della nazione germanica ma ancora non dico Carlo Magno ma nemmeno Ottone I aveva usato un'espressione di questo genere sarebbe stata del tutto anacronistica ai suoi tempi questo imperatore insicuro sul rettizio minacciato da mille minacce eccetera però è un uomo di straordinaria intraprendenza è un uomo che riforma il regno franco lo amministra attraverso una serie di noi diremmo di decreti legge tradotti in lettere in lettere di comando in circolari in circolari normative quelle che erano divise in capitola ben precisi quindi ogni capitolo ogni capoverso era una disposizione precisa e noi li studiamo e li chiamiamo capitolari e sono tutti editi si possono tranquillamente leggere in un latino fra l'altro molto più comprensibile del latino classico un latino un po' volgare come si usa dire riordina il suo regno naturalmente ne assicura la preminenza ai franchi ma tiene conto che il suo regno è fatto anche di goti è fatto anche di longobardi è fatto anche di latini è fatto anche di sassoni perché una parte dei sassoni vengono conquistati e convertiti in qualche modo è fatto di latini o di celto latini che stanno a sud dei pirenei e che a un certo punto negli anni 90 dell'ottavo secolo verso il 790 circa vengono assimilati in qualche modo ai franchi sono in realtà quei celto latini che noi conosciamo oggi sono anche molto di moda sono d'attualità che noi conosciamo come catalani e i catalani a loro volta erano stati fino a poco tempo prima dominati da una serie di emirati arabo-berberi musulmani allora a questo punto il nostro discorso perché l'elefante è un punto d'arrivo non un punto di partenza e la storia dell'elefante l'abbiamo già sentita riassunta a questo punto il nostro discorso si deve un po' allargare Carlo ormai ha un rapporto con il vescovo di Roma sì che è il papa perché i romani con questo loro linguaggio la Roma della bassa latinità o del tardo impero è quasi una città orientale una città piena di siriani piena di armeni piena di greci e quindi il loro vescovo i romani lo chiamano con un termine che ricorda vagamente quello popolare con cui gli ortodossi chiamano i preti i sacerdoti il pope papa corruzione di una parola che in greco suona come abbas che è d'origine siriana abba abu in arabo abba anche in ebraico padre padre nel senso di senso affettivo ma anche di di rispetto il vescovo di Roma è riuscito ad avere anche il controllo territoriale quindi è anche un piccolo principe della città e dell'area vicina è continuamente minacciato dalla potenza longobarda che gli sta intorno a un certo punto chiede contro questa potenza che lo assedia l'appoggio di un popolo germanico che ha il vantaggio di essere il primo popolo germanico che si è convertito al cristianesimo non passando attraverso forme ereticali la maggior parte dei germani si convertono al cristianesimo ma attraverso la confessione monofisita perché i loro antenati avevano ricevuto una oppure ariana anzi ariana prima che monofisita perché i loro antenati avevano ricevuto la conversione attraverso appunto i preti che erano ariani scusate quindi seguaci della dottrina del prete ario di Alessandria un noto teologo il quale sosteneva praticamente che il Cristo aveva una natura molto simile a quella divina ma non non esattamente quella divina era quella che chiamiamo un'eresia i franchi alla fine del quinto secolo con il re Clodoveo si erano a loro volta convertiti dal paganesimo germanico al cristianesimo ma il re Clodoveo aveva avuto l'intelligenza e la lungimiranza ma date ancora oggi quasi incomprensibile se la riportiamo a quegli anni di dichiararsi sì cristiano ma secondo il rito la forma e la dottrina del vescovo di Roma e questo la dice lunga sul sul fascino se però visitate la Provenza se andate a Nîm se andate a Fregius lo capite tutto questo perché già le rovine romane ancora oggi vi dicono quanto fosse forte l'impatto della cultura romana in tutta la Francia almeno meridionale Clodoveo che è un Franco che viene dal nord e che si è impadronito della Gallia profondamente cristianizzata dotata di una chiesa con sue forme liturgiche una chiesa molto toccata dall'arianesimo capisce che non è quello il tipo di cristianesimo che potrà avere oggi noi diremmo un futuro e sceglie di rivolgersi a Roma Roma non è più quella di una volta ormai Roma si è trasferita nella nuova Roma che sta a Costantinopoli ma Clodoveo capisce che c'è ancora un fascino profondo allora dichiara sì diventiamo cristiani ma diventiamo cristiani secondo gli insegnamenti del vescovo di Roma e chiede al vescovo di Roma che gli mandi dei missionari ed è un'operazione politica Clodoveo vuol dire ai suoi franchi attenzione noi diventiamo cristiani ma diventiamo cristiani mettendoci sotto l'ala protettrice dell'impero direttamente perché il vescovo di Roma è cristiano sì ma esattamente come lo è il patriarca di Costantinopoli anche se il rito è latino e non è greco ma ancora nel quinto secolo non c'è una grande differenza è vescovo di Roma ed è cristiano sì ma come lo è il Basileus l'imperatore di Costantinopoli chi è il vero imperatore romano e queste cose che noi facciamo un po' fatica a recuperare nel quinto secolo erano chiarissime e lo erano anche alla fine del settimo secolo e questo dà ragione a quelli che pensano e non lo pensano gratuitamente lo pensano leggendo le fonti del tempo che ci dicono qualcosa al riguardo che Carlo fosse quasi indispettito o comunque molto preoccupato e un po' quasi offeso del fatto che il Papa senza troppo ben chiarirgli la ragione di questo gesto lo avesse nominato in qualche modo reggente dell'impero perché di questo si tratta in un impero che occidente non c'era più però Carlo capisce che questo fatto forse fortuito lo mette in una condizione particolare con doveri e diritti del tutto nuovo e comincia ad agire come imperatore e cosa fa uno quando agisce come imperatore si comporta come imperatore e questo significa che la sua diplomazia si regola di conseguenza in quanto imperatore deve essere riconosciuto dai suoi pari grado il problema è che i suoi pari grado non lo vedono nemmeno Carlo si guarda intorno e decide che per quello che lui ne sa è la sua visione è una visione euro-mediterranea abbastanza miope abbastanza poco lungimirante per quello che lui ne sa ci sono due persone che possono essere assimilati agli imperatori all'imperatore dell'antica Roma e che sono essi stessi sovrani di sovrani perché ormai il termine imperatore vuol dire questo sono l'imperatore vero e proprio quello che sta a Costantinopoli quello che in greco si chiama basileus ma in quel momento c'è una basilissa c'è un'imperatrice Irene che governa come un uomo e che aveva tutte le caratteristiche anzi ne aveva forse qualcuna di più rispetto alla gente del suo tempo l'imperatrice Irene poi c'è il grande fenomeno dell'Islam che era già allora come oggi un fenomeno in in continua frammentazione in continua in continuo in continuo dinamismo anche in lotta fra le varie fazioni interne a se stesso se di queste cose non sappiamo nulla ancora oggi tanto è vero che l'Islam un miliardo e 600 milioni di persone sparse in tutto il mondo non ha un centro non ha delle realtà istituzionali normative che lo regola in altri termini non ha delle istituzioni ecclesiastiche e quindi ogni comunità islamica è portata a fare quello che vuole il suo direttore di coscienza il suo imam ma d'altra parte ormai l'Islam è organizzato in gran parte secondo stati più o meno di derivazione occidentale di istituzionalmente occidentale e quindi evidentemente l'Islam nei paesi dove i governi sono forti tende a diventare una sorta di chiesa di stato il che è paradosso perché l'Islam appunto chiesa non ce ne ha se davanti a un fenomeno così frammentario caratterizzato anche da quella che ormai è una parola araba che conosciamo tutti dalla fitna dalla guerra civile interna quella grande guerra fra sunniti e sciiti e una serie di lotte intestine se tutto questo ancora oggi e anche a osservatori di qualità dà l'impressione di un mondo unito di un mondo compatto molti di voi avranno letto pochi giorni fa un articolo del mio vecchio amico Ernesto Galli della loggia il quale a un certo punto parlando dell'Europa dice il guaio dei dirini europei è che non ci siamo costituiti un'identità forte e questa è la base del fatto che non riusciamo a unirci politicamente mentre siamo minacciati da due entità vicine invece sono forti monolitiche la Russia e l'Islam ora sulla Russia si può discutere anzi si dovrebbe discutere anche molto a lungo non sta male che l'Islam sia una realtà monolitica io mi chiedo come un osservatore della qualità di Ernesto Galli della loggia l'abbia potuto dire probabilmente gli è scappato gli è scappato scritto capita anche a me e capita a tutti probabilmente lo ha fatto con una punta una punta di dislealtà fra virgolette nei confronti dei lettori in quel momento voleva dare un'idea drammatica della situazione europea davanti ad altre situazioni ma sta di fatto che l'Islam non è unito se nel ventesimo secolo con le nostre cognizioni con le nostre comunicazioni possiamo cadere ancora in trabocchetti di questo genere figuratevi nell'ottavo secolo nell'ottavo secolo dell'Islam non si sapeva ancora quasi nulla tanto è vero che se leggete ancora la poesia epica che si scrive due secoli dopo pensate alla chanson de Roland i musulmani sono raffigurati come politeisti e idolafri ora di un musulmano e dell'Islam si può dire tutto il male che si vuole per carità ma che l'Islam sia idolafra e politeista è questo come del resto l'ebraismo e questo proprio non si può dire eppure si diceva e la gente ci credeva e d'altra parte questo fenomeno che si sapeva che occupava l'Oriente e che preoccupava Bisanzio e che d'altra parte spuntava per gli occidentali anche dalla Spagna o dall'Africa del Nord questo fenomeno era difficilmente comprensibile però si sapevano empiricamente alcune cose si sapeva per esempio che il capo dell'Islam il capo riconosciuto dell'Islam appunto che molti cristiani lo traducevano la sua funzione come una funzione quasi pontificia o imperiale si diceva il califo chi è il califo di Baghdad allora il califo stava a Baghdad un secolo un secolo e mezzo prima era un califo di un'altra dinastia e stava a Damasco ma il califo del tempo di Carlo stava a Baghdad ho detto Baghdad si dovrebbe dire Baghdad questa storia degli accenti è sempre complessa il califo di Baghdad della dinastia Abbaside una dinastia cioè di un predecessore che si era chiamato e l'ha detto molto bene la signora poco fa si era chiamato il figlio del dono Ibn Abbas figlio Ibn invece l'elefante si chiama Abu padre Abu Abbas Ibn Abbas quello che si chiama il figlio del dono è il capostipite di una dinastia quella dei califi abbassini d'origine evidentemente araba per forza perché non si diventa califi se non si è discendenti in linea femminile naturalmente della famiglia del profeta diciamo ma Grazie a tutti.